When your eyes get heavy and your feet can't touch the ground Love will never let you down Love will never let you down Oh no Obiettivamente siamo indietro rispetto a tutti quanti E' difficile fare di più, dobbiamo allenarci di più, provare di più Perché abbiamo problemi in attacco soprattutto Molti sbagliati perché ovviamente il beach non è l'indoor e cambia tanto Oggi però è stata una partita combattuta, i ragazzi ce l'hanno messa tutta Abbiamo perso anche dalla Svizzera ma in maniera totalmente diversa rispetto alle altre gare Rispetto a Russia e Spagna e anche nel test match che sono veramente molto più forti di noi Niente, adesso cerchiamo di concludere al migliore dei modi questo torneo E' un'esperienza molto importante, se si vuole crescere bisogna, ripeto, allenarci di più E provare molto, molto di più